Ciao ragazzi allora oggi chiamiamo una nostra fans come avete detto nel titolo quindi speriamo che ci rispondi perché speriamo sarà un scherzo davvero apico lasciare tantissimi mi piace se voi andate giù sotto nella descrizione c'è la nostra pagina facebook dove lì può uscire delle foto un video extra qualcosa quindi se volete essere proprio aggiornati gangster link 24 ore su 24 non volete perdere niente come la pubblicità media è tutto gratis andate sulla pagina facebook cliccate mi piace potete seguire i nostri aggiornamenti ogni cosa ok ora si parte che chiamiamo la nostra prima di averla sempre in ammangito da c'è rispira ma che schifo è una pecula pronto allora non ti spaventare per quanto tutto ecco, tu per caso, usi uno YOO? YOO? Sì no Finici con YouTube Sì, lo uso YouTube Eeeh, quali YouTuber segui? Eeeh, non lo so, io do di credo, do di troic Come? Proci? Eeeh Ho capito Proci? No Allora, io ti posso o un mio compagno? Eeeh A parte quelli, non è che segui altri? No, non ne seguo altri Tipo qualcuno che mi seguo la G? Sì Gigi Vigigatto Sì, di Gangsterlink Sì Sì Eeeh, ciao Ciao Chi è questa? Chi è questa? Sono Daniel Una componente dei Gangsterlink Che cazzo, sbagliate? Eeeh Ve lo so eh Ve lo so eh Ve lo so 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 Vabbè Vabbè, allora niente Che ci racconti di bello? Che stai facendo ora? Eeeh Sto ascoltando musica Eeeh E' quest'ora No Musica Eh Deve stare sui video e guardare i video Non ma guardare i video vostri adesso? No, sì, sempre Comunque l'ho fatto Ok, vado Grande Ti ho fatto un veredetta Oh, digli qualcosa Benedetta Che schifo il putale sui giacola Ti ha fatto piacere la nostra chiamata Oppure ti aspettavi che ne so Il tuo ragazzo Ma se c'è uno scherzone in realtà Uno scherzone? Mi devo aspettare un altro scherzone Eh boh non lo so Come c'è il culo Vabbè dai ti passo benedetta Vieni digli qualcosa Viva il gelato E' la Nutella E' la Nutella Va bene Allora da un saluto a tutti quanti Ciao tutti quanti Ok Vuoi più di allegria grazie E' proprio che ti No vabbè spero di non averti disturbato No no tranquillo Non deve fare tranquillo Va bene dai E vuoi puoi scenderti il mio numero? Un merro non ti si caga ma ancora una merda io per terra Se si pare Scusi a spavento E' una domanda Da quanto? Pronto Pronto? 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 Allora tu sei Eva no? Sì Che bel nome Allora da quando ci segui Eva? Sì Non è tantissimo Sarà un paio di mesi Ti sei inventita Della tua scelta oppure No perché? Beh non lo so Dipende Simpatici Grazie Soprattutto io Anche tu ci sei simpatica Ma mancagono Ora ti chiedo un favore Adesso devi urlare Tutta la tua voce Mi raccomando Devi dire Iscrivetevi a Gangsterlink Più forte che puoi Ok Iscrivetevi a Gangsterlink Grazie Eva 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 Sopriamo Eh va è una di noi Una di noi Una di noi Eh va è una di noi Eh va è una di noi Una di noi Soprattutto Va bene dai Grazie mille Buona serata Buon divertimento al cioccolato scusa il disturbo gli ero attaccati in faccia ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi soprattutto tu Eva commentate se volete che anche noi vi chiamiamo lasciatevi i vostri numeri tramite un messaggio privato su youtube oppure sotto il video oppure anche sulla nostra pagina facebook li ho trovati in descrizione non perdetevi perchè li possono uscire in dei video extra ciao ragazzi noi andiamo ma porca troia questa che mi deve sempre ciao ragazzi oh Oh, ma che abbia detto il tuo ullo? Ah! Si sta prendi qua! Si sta prendi qua! Pronti, pronti! Adio!